Dirottare i pazienti in no covid dai pronto soccorso pubblici agli ospedali privati per lasciare quanti più posti letto ai positivi al coronavirus. E la circolare alle Asla firmata da Pierluigi Lopalco e Vito Montanaro a fare da termometro della situazione pugliese. Il provvedimento disposto da Assessore alla Salute e Capodipartimento sarà in vigore fino al 31 maggio. A ordine di scuderia, saturare i posti letto messi a disposizione dai privati e soltanto successivamente ricorrere ai posti letto attivi delle strutture pubbliche. D'altro canto, il quadro pugliese migliora sì, ma in maniera lenta e neppure uniforme. In alcune province la curva sembra stabilizzarsi, ma in altre no, e la schiarita potrebbe arrivare verso la fine di aprile. Difficilmente invece, già dopo il Ponte Pasquale, messo alle spalle il quale la regione potrebbe restare nella fascia di rischio massima, ha confermato lo stesso titolare dell'assessorato nel corso delle audizioni in regione. Se sarà ufficialmente zona rossa e in compenso, sarà soltanto la cabina di Regione Nazionale a stabilirlo nelle prossime ore a fare argine alla campagna vaccinale, senza dimenticare chi sotto la morsa del virus è già passato. In Puglia, coloro che lo hanno contratto infatti, godranno dell'essenzione ticket per visite mediche, esami diagnostici e controlli sanitari di diverso tipo, finalizzati a stabilire le condizioni di salute dopo l'avvenuta guarigione, almeno secondo l'annuncio del Presidente della Commissione al Ramo, Mauro Vizzino, che fa sapere come la giunta di Via Gentile abbia già recepito le istanze di diversi consiglieri di maggioranza e opposizione.